dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete del mondo ma vi ho scelti io dal mondo per questo il mondo vi odia ricordatevi della parola che io vi ho detto un servo non è più grande del suo padrone se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato Gesù disse ai suoi discepoli una verità molto molto forte e un servo non è più grande del suo padrone ciò sta a sottolineare che ogni discepolo di Cristo ogni credente ogni ogni cristiano non può pensare la sua vita compiuta e piena al di fuori di questa relazione con Cristo il quale la sua vita anche ha compreso momenti momenti molto difficili scelte decisive scelte per per cose grandi e la vita del maestro è stata una vita donata spesa totalmente per gli altri la vita del maestro è una proesistenza e anche una pro morte cioè una morte per gli altri per il bene per la salvezza degli altri per la redenzione del mondo come diciamo nelle nelle nostre liturgie se questa è la vita del maestro una proesistenza una vita vissuta spesa e donata per gli altri quella del discepolo non può essere diversamente diversamente e questa è una verità centrale della nostra fede cristiana da questo punto di vista non in senso eroico chissà che cosa dobbiamo soffrire morire chissà che cosa non è tanto che questa sottolineatura ma è il fatto che il servo non è più grande del suo padrone cioè il servo non può essere il credente il discepolo di Cristo non può essere la sua vita compiuta e piena non può essere pensata in maniera diversa rispetto a quella del maestro è stata una vita ripeto donata spesa e vissuta per gli altri la sua proesistenza e anche la sua pro morte e questo questo brano personalmente mi ricorda il senso profondo della nostra della nostra vocazione cristiana e umana una vita una vita si compie nella misura in cui è una vita data donata spesa vissuta totalmente per gli altri nei diversi modi nei diversi contesti a seconda delle diverse scelte che ciascuno di noi fa per la propria vita amén